46 verticale, 7 lettere. Wanwan, da quanto stai continuando? È dall'inizio che sto scrivendo! È un messaggio molto potente. Wanwan, mi devo occupare di questa cosa adesso, quindi rimani qui e smettila di scrivere, ok? Ha i suoi ordini! Ahia. Ok, tutto normale. Sembrano molto tranquilli. Shhh, abbassa la voce! Hai detto per caso di alzare la mia voce? Basta, mostri arrabbiati! La porta dovrebbe essere... Sta' attenta tu, qui ci sono i miei simili. Quella volta ho quasi trovato mia mamma e hai fatto l'undicesimo punteggio più alto in pinball! Meglio non essere nella top 10 però, troppa pressione. Per me questo non è un gioco, Wanwan! Non possiamo divertirci! Abbiamo altro da fare, prima il lavoro e poi ci godiamo il divertimento. Quando aiuto mio padre ad aggiustare i go-kart e prima che lui li rivenda ci posso giocare. Prima il lavoro. Ok, ammetto che a volte c'era della pizza e che combattevamo con dei tubi, però era sempre parte del lavoro. Ah! Prima era 115! Oh no, 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 ho sbagliato qualcosa! Ho perso dei punti, sono cronometrata! Ho già visto una cosa simile. Quando il numero raggiunge lo zero... È la fine per tutti! Stavo parlando io. Non ci credo, non sapevo che questo numero sarebbe cambiato. Nessuno me l'aveva detto! Morirò su questo stupido treno perché non esiste uno stupido libro delle regole. Nel mio libro fai tu le regole, signorina Tulipa! Non ho tempo per questo! Avvicinati, non preoccuparti. Perfetto. Allora, qual era il tuo nome? Randall. Hai davvero un nome forte. Un nome forte per un uomo forte. Un uomo effluente come te può rendere Ciambelle la sua pila di spazzatura con questo prodotto davvero miracoloso. Il Crea Ciambelle. Sembra molto un tubo.